Podemos o non Podemos? In Spagna non Podemos, ma contro le furie rosse. Podemos? Spagna e Italia, Podemos? Noi non abbiamo una collocazione, per quello che riguarda il Movimento 5 Stelle, noi non abbiamo una collocazione ideologica, quindi né di destra né di sinistra, siamo dalla parte della gente, delle persone che vogliono essere rappresentati all'interno delle istituzioni da portavoce, dopodiché qualunque espressione democratica in Italia e negli altri paesi ci trova favorevole ai concordi, ai referendum, le votazioni, perché rispettino sempre comunque le regole democratiche. Mi riferivo comunque alla partita Spagna-Italia. Podemos? Podemos, se la possiamo fare. Spagna-Italia, Podemos? Mi auguro che gli spagnoli, il popolo spagnolo riesca ad avere il governo che da molti mesi, al quale da molti mesi si aspirano, perché sarebbe importante per la Spagna ma anche per l'Europa. Ciao! Ma anche per l'Europa. Dopodiché, se posso trovare una elezione italiana da questo voto, mi pare che insomma noi abbiamo una legge elettorale che questa situazione dovrebbe evitarla. Credo che prima di mettere in discussione, di provare a mandarla in soffitta, bisognerebbe valutare bene. Ovviamente io mi riferivo alla partita. Ah, mi hai pregato allora. Allora voldevole, allora sì. Bella, eh? Allora la rifaccio. No, va bene, così simpatica. Allora voldevole. Grazie a tutti.